Un amatore Tigers che convince e domina il match del Carisport contro Olginate. Nonostante l'assenza di sacchettini, i padroni di casa guidati da Ferraro e Daniello segnano i punti decisivi per far alzare bandiera bianca ai Lombardi già nel terzo parziale. I romagnoli hanno così salutato il Carisport con una vittoria, visto che giocheranno gli ultimi due match a Reggio Emilia e Ossano. Così di Lorenzo in tasca due punti preziosi. Mi piace vincere di 20 dal primo momento, però poi dopo su quelle partite un po' complicate perché si abbassa la tensione e rischi di fare solo delle figuracce. Magari non la perdi, però si abbassa un po' la tensione, quindi troppo tranquilla per i miei gusti. Abbiamo fatto una partita molto intensa dal primo secondo perché vedendo anche i risultati di ieri, Lugo che batte Orzinuovi, io sono andato a vedere Ozzano-Reggio Emilia, Reggio Emilia è stato super per 37 minuti. Cioè è la dimostrazione che è un campionato ancora una volta molto complicato, molto difficile. Un squadra che sono a sei punti, quindi Reggio Emilia e Lugo che ha due, due partite che una l'ha vinta e una l'ha persa, quindi non puoi mai dire, devi entrare in campo veramente con la faccia e l'atteggiamento giusto. Quello che abbiamo fatto noi dal primo secondo abbiamo indirizzato la partita in quella maniera là. Grazie a tutti.